Va bene, questo lunedì ci occupiamo di continuare a lavorare sulla ricorsione, come vi avevo accennato, rimarremo su questo argomento per qualche settimana, proprio per riuscire a dire l'argomento che non è semplicissimo. La volta scorsa avevamo accennato sugli ultimi 10 minuti della lezione a un esercizio diverso, che era quello delle 8 regine o delle N regine, dove l'obiettivo era posizionare delle regine su una scacchiera, facendo in modo che tante regine quanto è il lato della scacchiera stessa, quindi in una scacchiera standard 8x8 saranno ovviamente 8 regine, che in una posizione in cui nessuna di esse possa mangiare nessun'altra regina. Abbiamo iniziato a impostare il ragionamento, adesso completiamo il ragionamento e vediamo una soluzione e poi giocheremo su un paio di varianti di questa soluzione e ci servirà anche come spunto per ragionare un po' sulla complessità di questo tipo di problemi. Sono problemi in cui, come vedete, non possiamo avere una regola automatica che ci dica dove vanno messe queste regine. Una delle soluzioni possibili per N uguale 8, che ho riportato qua, ve l'ho già messo anche su Telegram come anticipazione, non ha una sua regolarità intrinseca. La soluzione va cercata, va trovata e di fatto uno dei modi per trovarla è quello di, come dicevamo la volta scorsa, esplorare lo spazio delle soluzioni, ossia provare tutte le possibili soluzioni e andare avanti solamente su quelle che sono promettenti e che portano a un risultato valido. Però per essere sicuro di trovare un risultato devo essere sicuro di non escludere a priori nessuna possibile combinazione e quindi di fatto devo, tra virgolette, provare tutte le combinazioni possibili e immaginabili. Poi su questo tutte magari riusciremo a un pochino semplificare il problema perché tutte e tutte a volte sono troppe e quindi cerchiamo se è possibile di tagliare il numero di soluzioni che dobbiamo considerare. Ok, allora, la volta scorsa avevamo già bozzato un modo di rappresentare la soluzione. Metà del lavoro in un algoritmo ricorsivo è capire come rappresentare e costruire la soluzione passo passo. Noi avevamo detto, e qui mi aggancio a questa soluzione possibile, che per fortuna abbiamo già trovato, mi aggancio a questa soluzione possibile, dove si può rappresentare questa posizione numerando le righe delle colonne, quindi questa è la riga 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e le colonne anche 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Quindi una, magari ingrandisco lo schermo, una possibile soluzione la possiamo rappresentare sapendo che per costruzione in ogni riga ci potrà e ci dovrà essere esattamente una regina. Ok? Sicuramente due regine nella stessa riga non ci possono stare perché se non si mangiano e non posso avere nessuna riga senza regine perché altrimenti non ci stanno tutte e otto. Quindi, sapendo questo, io posso codificare la mia soluzione, la codifico dicendo, creando un vettore, una lista di interi, di posizioni, nel senso di colonne, delle regine. Ok? Quindi vuol dire, ad esempio, questa soluzione, quella che è indicata qua nel disegno, la rappresenterò con una lista 0, il che vuol dire che nella riga 0 ho la regina in colonna 0, poi 6, che vuol dire che nella riga 1 ho la regina in posizione 6, poi, dunque, nella riga 2 ho la regina in posizione 4, nella riga 3 ho la regina in posizione 7, nella riga 4 ho la regina in posizione 1, la seconda casella, nella riga 5 ho la regina in posizione 3, nella riga 6 ho la regina in posizione 5, nella riga 7, infine, ho la regina in posizione 2. Quindi è una lista di 7 numeri, tutti tra 0 e 7, che rappresentano le posizioni di colonna dove la riga è implicita nell'indice della lista, nella posizione della lista Quindi qua queste sono colonne, le righe sarebbero 0 per la prima posizione, 1 per la seconda posizione, 2 per la terza posizione, eccetera eccetera, fino a 7 per l'ultima posizione e queste sarebbero le righe Quindi questa è una rappresentazione compatta, possibile, una delle tante possibili, non è l'unica, ma mi sembra la più semplice, la più diretta, per descrivere come sono messe queste regine Tenete presente che nel decidere questa codifica ho già tenuto conto di uno dei vincoli del problema, del fatto che una regina di sicuro può essere solo su una riga Questa osservazione che abbiamo fatto all'inizio ci è servita per poter decidere questa soluzione Se anziché regine fossero, che ne so, alfieri o cavalli, questa regola non varrebbe più E quindi dovremmo inventarci un altro modo di codificare la soluzione, magari più complesso in cui c'è una lista in cui c'è riga colonna, c'è una lista di coppie di numeri Vabbè, però fosse un altro problema, troveremmo un'altra soluzione Ecco, quella che abbiamo mostrato qua è una soluzione completa, come potrebbe arrivarci per magia E in realtà noi la dobbiamo costruire passo a passo E allora, il ragionamento che facciamo nella ricorsione è Ma come posso partire da una soluzione vuota e cominciare a popolarla? A farla crescere Meglio ancora, il passo ricorsivo è come faccio a partire da una soluzione parziale, che potrebbe essere questa E farla crescere Allora, la nostra procedura ricorsiva ha come missione quella di prendere una soluzione parziale E vedere in tutte le possibili estensioni di questa soluzione parziale Come si può estendere? Si può ragionare in modo diverso Il modo più semplice, in questo caso, cioè come faccio ad estenderla? Qui stiamo ritornando sul ragionamento, ma per farlo un pochino più con calma Come faccio ad estendere una soluzione? Beh, posso lavorarci in modi diversi Ad esempio, ed è quello più semplice che mi viene in mente, vado per righe Cioè, se questa soluzione parziale mi rappresenta le prime quattro righe Allora cercherò delle soluzioni in cui mi chiedo chi c'è nella quinta riga Cioè, in quale colonna devo mettere la regina sulla riga numero quattro, cioè la quinta? Questo è un modo E quindi, in qualche modo, sto dicendo che il livello della ricorsione coincide con il numero di righe già piene Righe piene Non è l'unico modo, eh Non è l'unico modo, perché uno potrebbe ragionare, in questo caso specifico si complicherebbe Però potrebbe dire, beh, io decido prima dove mettere una certa regina La regina che sta nella colonna 4 E allora decido, vedete che qua ci sono tutti i numeri 307 Allora io potrei dire, va bene, il numero 3 Cioè, la regina che sta nella terza colonna In quale posizione la metto nella matrice? Quindi potrei pensare di partire con una matrice con tutte le posizioni vuote Che ne so, ci metto un valore sentinella, tipo un meno 1 Per dire, qui non ci sta ancora la regina E ad ogni livello della ricorsione scelgo una regina da posizionare E provo a posizionarlo nelle varie posizioni Allora in questo caso, il livello della ricorsione sarebbe non più la riga della scacchiera da posizionare Ma la regina che voglio posizionare in qualche modo identificata dalla sua colonna Questo per dire, adesso non espando tanto questo secondo tipo di ragionamento Per dire che ci sono modi diversi, possono essere modi diversi di costruire una soluzione in modo incrementale Con pro e contro, vantaggi e vantaggi, ma non esiste uno solo, sempre Possono essere modi diversi di arrivare a un meccanismo che per passi successivi costruisca la soluzione Allora, quello che abbiamo scelto noi è il più semplice, probabilmente Quindi, dato un livello, vuol dire, se ho il livello in questo caso In questo caso vale 4 Vuol dire che le righe già posizionate, chiamiamole piene, sono le righe dallo 0 alla 3 E ho 4 righe piene che valgono da 0 alla 3 Quindi lo scopo della mia chiamata ricorsiva è mettere chi mette nella posizione a soluzione 4 Quindi quando il livello è 4, devo riempire la posizione 4 del mio vettore Quindi questo ci aiuta un pochino a giocare con gli indici E evitare di confonderci tra il 3 che è l'ultima riga piena 4 è la riga che devo riempire Ma 4 è anche il numero di righe che sono già piene Quindi ricordiamoci sempre che gli indici partono da 0 Quindi meglio sempre chiarirci un po' cosa stiamo facendo Questo tra l'altro corrisponde a questa posizione Cioè voi immaginate che la scacchiera l'abbiamo riempita fino a qui E dobbiamo decidere dove mettere questa signora Tra l'altro, nella procedura ricorsiva Io non so se la parte che ho già costruito di scacchiera Sarà quella giusta Nessuno me lo può dire, io sono solo a metà del lavoro Quindi io assumo che sia giusto Supponendo che le prime 4 righe siano quelle Dove metto la regina nella quinta? Poi magari quelle prime 4 righe non sono corrette E allora ci sarà il meccanismo di ricorsione Che mi farà cambiare, tornare su e cambiare altre ipotesi E così come nel mettere la quinta riga Io non posso fare dei ragionamenti tanto complicati Che dicano ma io so già che questa sarà la posizione migliore No, devo provarle tutte o almeno tutte quelle che non sono incompatibili Perché ad esempio se mi dicessero Ok, trovami dove sta questa regina Nella colonna 0 no Perché verrebbe mangiata da questa Nella colonna 2 no Perché verrebbe mangiata da questa Nella colonna 3 no perché verrebbe mangiata da questa Nella colonna 4 neppure Nella 5 neppure Nella 6 neppure Nella 7 neppure Quindi poverina Questa qui abbiamo scelto un esempio In cui in realtà la posso provare a metterla solamente in quella posizione Cioè io andrò a costruire delle nuove soluzioni parziali Che però siano ancora valide Cioè man mano che costruisco è inutile che io vada a posizionare delle regine In posizioni che so già Che non potranno portare una soluzione E quindi vado a controllare Vado a controllare se la posizione in cui la sto aggiungendo Non rispetta tutti i vincoli Quindi quello che abbiamo detto è Le prime 4 righe Supponiamo Non sappiamo Ma supponiamo che facciano parte della soluzione finale Di sicuro rispetteranno le regole Di non mangiarsi I vincoli Nell'aggiungere la quinta riga La provo a sistemare in tutte le posizioni possibili Purché non vada a violare una delle regole del problema Ok Le righe 5, 6, 7 Al momento nostro Cioè nel nostro esempio Non esistono ancora Ok Anche per rispondere a Manuel Non sappiamo ancora cosa ci sarà E quindi ho sbagliato Hai ragione Hai ragione Ho sbagliato a fare queste crocette Quindi scusate È vero Quindi non posso Quindi queste qui non ci sono ancora Sì sto registrando Ma sto registrando localmente in OBS Non con Zoom Allora dicevamo Scusate torno indietro perché ho sbagliato Queste qui non ci sono ancora E quindi in realtà questa regina possiamo metterla non qua Abbiamo giusto Qui sì Metto una R per regina Possibile Qui sì Aspetta Qui sì no No scusate Qui no Perché verrebbe mangiata in diagonale da questa Quindi anche questa è no Qui verrebbe mangiata in diagonale da quella a 0,0 quindi no Questa qui sembrerebbe invece una posizione possibile Guardando solamente la regina che ho già piazzato Giusto? Questa sotto no Questa qua no Quindi in realtà Mi scuso per l'errore di prima Alla quinto livello di ricorsione Con queste quattro righe piazzate in questo modo Io posso ipotizzare di mettere due Due posizioni possibili della regina Ok? E quindi saranno due chiamate ricorsive Quindi di tutte queste chiamate Ce ne sarà una che provo L'altra che provo E l'altra che non provo neppure Perché sarebbero incompatibili con la soluzione che sto costruendo Quindi ad ogni passo io devo solo fare quel lavoro lì Aggiungere un pezzo alla soluzione Supponiendo che la soluzione precedente sia corretta E aggiungendo un pezzo che la mantenga corretta Questo è il ragionamento che dobbiamo fare Una volta che abbiamo impostato la struttura della soluzione Poi abbiamo i due casi estremi Quindi una volta che abbiamo capito e deciso E implementato bene questo meccanismo generale Da un passo al passo successivo Abbiamo i due casi estremi Che sono Iniziare E terminare Ok? Come fare per iniziare il meccanismo Cioè cos'è il livello 0 Cos'è la prima chiamata E la terminazione Cioè ho trovato una soluzione oppure non ho trovata Cos'è che mi può impedire di trovare una soluzione? Mi può impedire di trovare una soluzione Il fatto che a un certo punto Quando io vado ad analizzare Questa ovviamente è una soluzione completa Quindi di sicuro la troverò Ma è una possibilità Ma nel controllare dove posso mettere le mie regine A livello 4 Nella riga 4 Potrei trovare che in tutte le otto posizioni C'è qualcosa che mi dice che non la posso mettere C'è qualche vincolo In verticale o in diagonale Che mi fa sì che la regina lì non possa essere messa E allora La ricorsione non potrà più andare avanti Si fermerà dopo 4 righe Dovrà tornare indietro Perché dice guarda c'è qualcosa di sbagliato Nelle prime 4 righe Non sbagliato in sé Perché quelle 4 righe Sono fatte di regine Che non si mangiano tra di loro Ma la loro posizione Impedisce di poter posizionare quelle successive E allora devo tornare indietro e spostarle Ma questo avviene in automatico Nella ricorsione Allora proviamo a concentrarci prima Su questo passaggio Poi vediamo l'inizio e la fine Ok? Allora questo passaggio in realtà È più veloce Facciamo prima a scriverlo Che non a raccontarlo Perché alla fine avevamo già La volta scorsa Impostato questa procedura ricorsiva Che riceveva una lista Di interi Che rappresentava la soluzione parziale Ok? E un numero che rappresentava Il livello stesso E quindi Il ragionamento che abbiamo già fatto è Ma allora Se io sono in una certa posizione Io provo a posizionare In tutte le colonne possibili Da 0 a n La mia regina E se Se Non violo nessun vincolo Allora Faccio una chiamata ricorsiva Che dice In cui Aggiorno la soluzione parziale Dicendo Ho messo La regina successiva In questa posizione E poi lascio Che chiaramente Le chiamate ricorsive Sottostante Risolvano le righe successive Ok? Allora qui bisogna mettere a posto Solamente questo n Che abbiamo scritto Ma Non sappiamo Che cos'è E quindi possiamo definire E quindi possiamo definire ad esempio Una variabile n E ovviamente tutto questo arriverà da una Chiamata Una procedura principale Che fatemi vedere come l'avevo chiamata Che non ricordo L'avevo chiamata Risolvi Ok? Quindi chiamiamo Allo stesso modo Che restituisce Una Una lista Ok? Quindi E poi ho un metodo Public Che è l'unica cosa che vedono dall'esterno Che restituisce una lista di interi Che è la soluzione Questo metodo lo chiamiamo Risolvi Che riceve come parametro Il valore di n Cioè Risolvimi Una Scacchiera Di dimensione n E quindi Come prima cosa Chiaramente si memorizza N E poi Per ora Mettiamo un ritorno Nal Per non avere degli errori Di compilazione Ma qui C'è la procedura Esterno Che attiva La chiamata ricorsiva L'abbiamo scritta solamente Per definire questo n Con cui lavorerà La chiamata ricorsiva La stessa Adesso torniamo sulla chiamata ricorsiva Quindi Io ho già una lista Che contiene già Livello elementi Livello uguale a 4 Contiene 4 elementi Da 0 a 3 Noi dobbiamo cercare Quello successivo Ok Allora Quello che dobbiamo fare È Se Le ipotesi possibili Sono n Da 0 A n-1 E le enumero In questo ciclo for Quindi sono tutte le possibili Ipotetiche Posizioni In cui posso pensare Di mettere La regina Ovviamente Devo avere Una funzione Che mi dica Se la posizione è valida Dato La posizione parziale E la colonna In cui sto cercando Di metterla Se è valida E questa posizione valida Sarà una funzione Mia Privata Una funzione Di aiuto Per non mettere qua Dentro il codice complicato Poi vediamo Poi vediamo Compatibile Compatibile Con le posizioni parziali Delle regine precedenti Allora È giusto Fare ricorsione Fare ricorsione Significa Adesso Allora La metto Questa regina In questa colonna E quindi Faccio un Parziale Punto Add Di colonna Quindi sto aggiungendo Un numeretto Al fondo Della rista E poi Potrò chiamare La funzione ricorsiva Passandogli La nuova soluzione Parziale E Il livello Incrementato Di 1 Ok Colonna uguale a 0 Se la posizione valida Della colonna uguale A 0 Se la posizione Con la regina Messa in colonna 0 È valida Allora Aggiungo 0 Alla lista E poi Faccio ricorsione Ci ho provato Provo a vedere Cosa succede Se la metto Nella colonna 0 Ammesso che sia valida Poi Ciclo for Colonna uguale 1 Allora Se la posizione Colonna uguale 1 È valida Allora Aggiungo la lista Alla colonna uguale 1 E vedo Le sue conseguenze Le conseguenze I livelli successivi Di aver scelto La colonna 1 Viceversa Incremento Colonna 2 Eccetera eccetera Quindi In questo ciclo for Provo Per tutte le otto posizioni A metterla Nella colonna Se è valida La metto E vedo le conseguenze A livelli successivi E chiedo A una procedura ricorsiva A livello successivo Adesso Io l'ho messa Quindi adesso Tu hai 5 righe Lavora sulla sesta In questo ragionamento Bisogna fare attenzione Che quando io Itero su questo ciclo for Ogni volta Ho aggiunto qualcosa A questa lista Quindi Quando la mia lista Era Cosa che conteneva 0,6,4,7 Ok 0,6,4,7 E abbiamo visto Che ci abbiamo aggiunto Abbiamo aggiunto L'1 Che è uno Di tentativi possibili Poi dovremmo fare Un secondo tentativo Ok Quindi questa era La lista parziale Che avevo qua Mettiamola qui Ok Questa è la lista parziale Con cui Arrivo Con cui Mi sono stato chiamato Poi qui Ho scoperto Che la colonna 1 È compatibile Quindi non vi era Nessun vincolo E quindi ho aggiunto Parziale la colonna 1 Qua in fondo Ok E quindi farò La ricorsione Dove la procedura ricorsiva Riceverà questa lista Che questa volta Ha già 5 elementi Giustamente perché Siamo a livello 5 Poi alla versione successiva All'iterazione successiva Dovrò Abbiamo visto qua Nel nostro esempio Che anche la colonna 5 Era valida E quindi dovrò Provare ad aggiungere Il valore 5 Attenzione però Che il valore 5 Non lo devo aggiungere Qua in fondo Ok Perché non si aggiunge Alla 1 Ma si aggiunge Alla 7 Quindi devo Ho messo l'1 Faccio la prova ricorsiva Poi quando torno indietro Quando ho finito Di fare questa prova Questo 1 lo tolgo Perché era solo una prova E poi ci metterò E poi ci metterò il 5 Facendo una prova successiva Quindi Metti Prova E rimetti le cose a posto Questo vuol dire Che dopo che ho fatto La chiamata ricorsiva Quell'1 che ho aggiunto Ma che l'1 era Un tentativo Di lavoro Per far lavorare Questa procedura Al livello 5 Lo devo togliere Perché sto provando Altre alternative A quell'1 lì Attenzione A non aggiungere E quindi di fatto Semplicemente Devo rimuovere L'ultimo elemento Che adesso Ad esempio Posso fare un parziale Punto remove Di Parziale Punto size Meno 1 Cioè Togli l'ultimo elemento In modo che Rimetto a posto La lista Togliendo l'elemento Che avevo appena aggiunto Questa è quella Che Nelle slide Abbiamo chiamato Backtracking Magari scritto giusto Quindi Essenzialmente Significa Far sì che Tutte le volte Che io modifico La soluzione parziale Per poter scendere Di livello Devo ricordarmi Quando risalgo Di livello Di rimetterle cose a posto In questo ciclo for Farò tanti tentativi Ogni tentativo Dovrà partire Sempre Dalla stessa Soluzione parziale Ogni volta Aggiungendoli Un certo Nuovo valore Che ogni volta Cambia Ma dopo che L'ho provato Questi sono tutti Tentativi Come dicevamo Io non sono mai sicuro Se questo valore Sarà quello corretto E allora Lo metto Vedo cosa succede E poi lo tolgo Ok? Ricordiamoci sempre Questo passaggio A questo punto Il 90% Il lavoro è fatto Del lavoro Intelligente Adesso rimane Il lavoro stupido Che è quello Di implementare Questa funzione Posizione valida Creiamo un metodo Posizione valida Lo faccio creare Da Eclipse Direttamente Che sarà Chiaramente Un boolean Vero o falso Metodo privato Perché Ne ho bisogno Solamente io Internamente E allora Cosa farò Andrò a vedere Controlla Se Se Allora Io cosa devo controllare Devo controllare Se esiste già Una delle Regine Precedenti Che sia già Sulla mia colonna Ok? Quindi se viene Pangiata In verticale In orizzontale No per costruzione In verticale E allora Questo è molto semplice Perché basta vedere Se c'è almeno Una delle Regine Precedenti Che è Nella stessa colonna Quindi se per caso La lista Delle parziali Delle posizioni Parziali Parziale Contiene Il valore Di colonna Allora Non è valido Altrimenti Ok? Quindi questo C'è che è molto semplice Vado a vedere Se nella lista 0,4,6,7 È contenuto Il valore Colonna Che sto per provare Se io sto per provare 0 Non va bene Perché c'è già Una regina In colonna 0 Se sto per provare 1 Beh, magari Sì Non lo sappiamo Se sto per provare 2 Magari Sì Non lo sappiamo Ma di sicuro Non c'è nessuna Regina Già nella colonna 2 Ok? Quindi questo Me la cavo Molto rapidamente Il controllo Per riga Non ho bisogno Di farlo Perché è insito Nel modo In cui ho codificato La soluzione Il controllo Per colonna È semplicemente Un controllo Di un duplicato Cioè sto per inserire Un valore duplicato Allora no Non farlo Fermo E poi c'è Invece Il controllo Per colonna Il controllo Per colonna Come lo faccio? Scusatemi Per diagonale Come lo posso fare Il controllo Per diagonale? Beh andiamo A prendere magari La figurina Che ci aiuta Io devo A occhio lo vediamo Nel senso che Vabbè dici Questa regina La voglio posizionare qui E quindi vado a vedere Se In queste caselle C'è un'altra regina O no E in queste caselle Così via Qua In questo esempio Abbiamo detto Che non la potevamo mettere Perché abbiamo trovato Quest'altra regina Che andava in conflitto Allora come facciamo Allora come facciamo A scoprirlo Cos'hanno in comune Tutte le caselle Di una certa diagonale E hanno in comune Il fatto che se guardate 6 più 1 Che è la somma Delle coordinate Di questa regina È uguale A 3 più 4 Che è la somma Delle coordinate Di quest'altra regina Cioè Le diagonali Della matrice Hanno La proprietà Che riga Più colonna Uguale costante Le diagonali Diciamo così Orientate verso In questa direzione E invece Le diagonali Orientate al contrario Quindi quelle Che ad esempio Impedirebbero Scusatemi Di avere Una regina In questa casella Perché è già presa La sopra Abbiamo Che la riga Meno colonna Uguale costante Ok? Sono l'equazione Delle rette Inclinate a 45 gradi Allora Senza andare Casella per casella Io devo Prendere Le regine Che ho già posizionato E chiedermi Ok Quanto vale Riga più colonna Di questa regina? Zero Ok Vuol dire Che se La regina Che sto per posizionare Ha un valore Riga più colonna Uguale A riga più colonna Di una delle regine Esistenti Non va bene E idem Su riga meno colonna Quindi se trovo Almeno una regina Che abbia Un valore Della somma O della differenza Tra le coordinate Uguale Alla somma Rispettivamente O la differenza Delle coordinate Della regina Che sto per posizionare Allora non va bene È chiaro? Allora Detto così Anche qua Scriviamo due righe di coisi Chiaramente bisogna fare Un ciclo Per iterare Sulle regine Esistenti E fare questo Semplice controllo Torniamo Al codice E proviamo A implementarlo Quindi adesso Controlliamo Le diagonali Quindi Prendo tutte Le regine Esistenti For Int Regina In Parziale No scusate Facciamo Mi serve La riga E la colonna Diamo dei nomi A queste variabili Ok? Quindi noi abbiamo La regina Che stiamo cercando Di posizionare La cui riga È il livello E la colonna Appunto È colonna Ok? In questa funzione Abbiamo questi due parametri Il livello E la colonna Il livello Mi serve Perché è la riga In cui la posiziono Il valore È colonna È il parametro Che mi arriva Le regine Che stiamo cercando Di confrontare Diciamo Che Chiamiamo RC Le loro coordinate Ok? Quindi Vuol dire Che devo Controllare Confrontare La posizione Riga Colonna Quindi la riga È livello Virgola Colonna Con la posizione RC Delle regine Esistenti Quindi Mi servono Gli R Che vanno Da 0 A quanto Le righe Sono da 0 A livello Meno 1 Quindi R Minore Di livello R Più Più Ricordiamo Che ci dice La riga A cui siamo Arrivati E la colonna Me la dice La lista Quindi parziale Punto Get Di R Quindi in questo Ciclo For Cerco di Estrarre La riga E la colonna Delle varie Regine Che ci sono Già E le devo Confrontare Con la posizione Della mia Regina Mi sto accorgendo Che in questa Funzione qua Mi serve Livello Quindi lo devo Aggiungere Come Come ulteriore Parametro A questa Funzione Perché mi Serve Per fare I conti E quindi Quando faccio Posizione Valida Anche qua Sopra Dovrò A raggiungere Livello Allora Avendo questo Io vado A controllare Livello Lo possiamo Ricavarlo Dalla Size Di parziale Sia anche Vero Se volete Possiamo Anche fare Così È uguale Basterà Scrivere Qua dentro Inter Livello Uguale Parziale Punto Size Se vi piace Di più Così Va bene Ok A questo punto Controllo Se R più C La riga E colonna Della Di una Del regine La somma Delle loro coordinate È uguale La somma Delle coordinate Della mia Quindi livello Quindi livello Più colonna Oppure R-C Uguale Livello Meno colonna Non va bene Perché Ho trovato Una Conflitto In diagonale Ok Se ne trovo Almeno uno Esco dalla procedura Dicendo falso Se Sono sopravvissuto Sia Il controllo Per colonna Sia Il controllo Per diagonale Nel senso che Non ho mai trovato Un return False Perché nessuna Di queste condizioni Era mai stata Vera Allora potrò dire Che avendo Controllato Tutte le posizioni Non ho trovato Nessun vincolo Nessun Conflitto E quindi È compatibile È una posizione Valida E alla fine Ritorno Vero Per questo Non volevo mettere Questo codice Dentro la procedura Ricorsiva La procedura Ricorsiva È già complicata Da pensare Non andiamo A completare il codice Questo è il codice Diciamo così Di basso livello In cui maneggiamo Le liste Gli indici Eccetera Teniamolo separato Ok Tanto l'importante È avere chiaro Che cosa fa Questa funzione Poi dobbiamo Metterci lì A farlo Possiamo implementare In 100 modi diversi Questa funzione Non ci interessa Questa è una funzione Che chiaramente Limita l'espansione Dell'albero Mi evita Di dover Provare Situazioni Combinazioni Che sono Totalmente Inutili Che so già Adesso Alla riga 5 Che sono inutili Volendo Uno potrebbe Anche non fare Questo controllo Se non facesse Questo controllo Proverebbe a mettere Tutte le regine In tutte le posizioni E ad esempio Il primo tentativo Che farebbe L'algoritmo Sarebbe quello Di mettere Le 8 regine Tutte in verticale Una sotto l'altra È stupido Dopo che hai messo La prima La seconda Ti accorgi già Che non va bene Però l'algoritmo Potrebbe essere stupido E provare Tutte Funzionerebbe lo stesso Nel senso Che ovviamente Poi alla fine Dovrò fare un controllo Quando sono arrivato A posizionare L'ultima regina Dovrò fare un controllo Se effettivamente Non si mangiano E a quel punto Butterò via Quella soluzione Però Rischierei di generare Milioni di soluzioni Inutili Che avrei già potuto Fermare prima La domanda D'Alessandro Interessante Dice Nel caso in cui ci fossero Le regine Nei livelli successivi Come cambierebbe Il controllo diagonale Per le diagonali inferiori Allora Ti rispondo In due modi diversi Uno Il modo semplice Non cambia nulla Nel senso Che questa Riga più colonna Di fatto È il numero Della diagonale Cioè Abbiamo la diagonale 0 In cui la somma vale 0 In cui la somma vale 1 In cui la somma vale 2 Eccetera eccetera Poi che le altre regine Siano sopra o sotto Non ci cambia nulla Perché anche quelle sotto Diciamo così Avrebbero lo stesso valore Della somma Quindi la k Di quelle che hanno sopra Quindi il controllo Continuerebbe a funzionare Anche se le regine Fossero In posizioni diverse Sopra o sotto Non importa E come vedi C'è totale simmetria qua Qui non c'è scritto Non c'è nulla Che ci fa capire In questo confronto Di uguaglianza Chi è quella sopra Chi è quella sotto Però colgo l'occasione Della domanda Per chiederci Ma perché stai pensando Che ci siano Delle regine anche sotto Allora Nel nostro meccanismo Di costruzione Non ci possono essere Ok E non mi devo preoccupare Di dove verranno messe Dalle chiamate ricorsive successive Ok Io qua devo andare Veramente come i paraocchi Come i cavalli Nel senso che io Tutte le righe precedenti Sono già definite E non ci penso Qualcun altro Le ha fatte per me Tutte le righe successive Non lo so Non me ne frega niente Qualcun altro ci penserà per me E io mi concentro solo Su questa riga Ok Quindi nell'impostare La ricorsione Cercate di non Di non essere Troppo intelligenti Diciamo così A questo livello Di non cercare Di guardare avanti O guardare indietro Dovete semplicemente Lo scopo Della procedura ricorsiva È uno solo Posiziono Posiziono una regina Tutte le posizioni possibili Nella riga 5 Bon Ok Se avessi schemi Di ricorsione diverse In cui le regioni Invece vengono posizionate Non in ordine di riga Ma in un ordine diverso Allora chiaramente Vale Vale la Vale la domanda Ma in questo caso Non può succedere E non ce ne dobbiamo preoccupare Ok Cosa ci manca Ad ogni livello Vado avanti Chiaramente sto aggiungendo Qualche cosa E aggiungere qualche cosa Alla soluzione parziale Fa sì che le posizioni valide Delle righe successive Saranno sempre di meno E quindi Il numero di Effettivamente Chiamate ricorsione Ad ogni livello Via via decresce Cioè al primo livello Le ho tutte 8 Le posizioni sono libere Perché non c'è nulla Che mi faccia conflitto A secondo livello Ho già Dalle 8 posizioni libere Me ne tolgo già 3 Quella sotto E quelle Leggermente a sinistra Leggermente a destra Rispetto alla prima regina E quindi ne avrò solamente 5 E via via che scendo Avrò sempre meno posizione valide Può darsi che in un'iterazione Non abbia nessuna soluzione valida E allora vorrà dire Che in quelle iterazioni lì Non faccio più nessuna Chiamata ricorsiva successiva Cioè non arriverò mai A livello 8 Perché mi fermo A livello 2 3 4 Quello che è Va bene Ci pensa la funzione La cosa interessante È quando Invece mi dicono Guarda che la soluzione Parziale Che ti sto dando Ha già N elementi E allora Col cavolo Non è più una soluzione parziale È la soluzione totale È la soluzione completa Allora in questo caso Me la posso salvare Che ne so Proviamo anche solo a stampare Poi ci aggiungiamo Poi ci aggiungiamo qualcosa Di più furbo Out Punto printline Di Parziale Quindi qua ci posso fare qualcosa Vedete che qua c'è un bellissimo Else Che dice Se sono nel caso terminale Gestisci il caso terminale Dove hai una soluzione completa E questa soluzione completa È valida Perché via via Le regine che hai aggiunto Rispettavano i vincoli Quindi la soluzione completa Rispetta tutti i vincoli Altrimenti Scendi ai livelli successivi Se ho trovato una soluzione parziale Non dovrò più Cercare di scendere A livelli ancora successivi Anche perché Non troverò nulla Ma va bene Ok Sono proprio due alternative Ci sono poi dei casi particolari In cui invece Ho dei casi semi terminali In cui Trovo una soluzione E poi provo ad andare avanti comunque Ma non è questo il problema Non è in questo tipo Di problemi della regina E non si pone Quindi Questo è importante Perché mi distingue tra i due casi O proseguo una ricorsione Oppure mi fermo E torno indietro Questo dovrebbe già Probabilmente funzionare Se mettessi a posto Questa funzione risolvi Quindi per ora Dicevamo O Il caso medio Quello verde Probabilmente l'abbiamo gestito Ci mancano il caso terminale E il caso iniziale Il caso terminale Per ora abbiamo messo una print E poi Cercheremo di salvare la soluzione In modo da ritornarla Al chiamate E il caso iniziale Il caso iniziale È quello in cui viene chiamata Per la prima volta Questa funzione cerca Da parte Dell'interfaccia pubblica Quindi questa interfaccia pubblica Dovrò chiamare la funzione cerca Passandogli un valore iniziale Della soluzione parziale E un valore iniziale Della variabile di livello A livello iniziale Avrò una matrice vuota Quindi la mia soluzione parziale Con nessuna regina ancora posizionata Quindi la mia soluzione parziale Sarà semplicemente Una lista di interi vuota E il livello sarà 0 Perché finora ho riempito 0 righe E la procedura ricorsiva La prima volta dovrà riempire la prima regina Nella riga numero 0 Allora scriviamo questa chiamata Poi rispondo a Mario Allora qui Quindi definisco una mia lista Di interi Che è la soluzione parziale Uguale New ArrayList Di integer Vuota ArrayList E non LinkedList Mi raccomando In questo caso Perché stiamo facendo Qua sotto Get Più volte E abbiamo visto Negli laboratori precedenti Che la get Su una LinkedList È un'operazione che Itera sulla lista Quindi aggiunge ritardo Mentre invece Su una ArrayList Ha un tempo costante Oggi poi Nella seconda ora Parleremo un po' di complessità Cercheremo di dare un po' di Quantificazione A questo ragionamento intuitivo E poi il livello sarà 0 Quindi cerca Di parziale 2,0 Fine Ok Arrivando alla domanda di Mario Che ha fatto nella chat Dice Se arrivassimo al caso terminale Poi la chiamata Ritorna nei passi precedenti Sì Giusto Nel senso che dopo che ho posizionato La regina Nella riga 8 La tolgo E provo a posizionarla In una posizione diversa Sulla riga 8 E dopo che ho finito Tutte le regine Sulla riga 8 Le tolgo E toglierò Quella che c'era Sulla riga 7 E proverò a posizionare In una posizione diversa E così via Quindi questa Impostazione Cerca tutte le soluzioni Anche se l'ha già trovata Lui continua a cercare Continuando a cercare Quindi tornando indietro Nella ricorsione Subito dopo Questa print Lui che cosa fa? Fa la remove E quindi Man mano che scende Costruisce la soluzione Chiamo, chiamo, chiamo Aggiungo questi pezzi La soluzione Quando torna indietro La decostruisce La smonta Un pezzo alla volta Per poi arrivare Quando ho finito L'intera ricorsione Ad avere di nuovo La lista parziale Vuota Quindi questa è una fisarmonica Man mano che scendono La ricorsione Aumentano Gli elementi Man mano che torno indietro La ricorsione Questo oggetto parziale Perde i pezzi Perde gli elementi Che vi ho aggiunto Ok? Quindi alla fine Della chiamata Cerca Alla fine proprio qua Dopo che ho finito Di chiamare tutto Questo parziale Era iniziato Vuoto E sarà ancora vuoto Questo è una cosa Questa è una cosa A cui dovremmo fare Attenzione Tra dieci minuti Ok? Quando vorremmo Salvare le soluzioni Allora proviamo A vedere cosa Se funziona Con la print Allora io avevo Un test regine Che avevamo già fatto La volta scorsa Beh non da 4 Cominciamo a mettere da 4 Magari Dove creava Una nuova classe regina Chiavava il minuto risolvi E stampava Beh soluzione Che in realtà Noi sappiamo già Che sarà Null Perché abbiamo Ritornato un null Eseguiamola E vediamo Che cosa succede Ecco in questo caso Mi stampa Allora queste stampe qua Vengono dall'interno Della procedura Ricorsiva Nel caso terminale Questo null Invece viene stampato Dalla classe di test Che Che cerca di stampare Una soluzione Ma io non l'ho restituita Quindi poverino Lui si becca un null Quindi vedete Che ogni volta Che arriva giù Ha trovato Una soluzione diversa E qui mi elenca Tutte le soluzioni Dopo che ha trovato La prima Lui continua a cercare Se io lo facessi Su una matrice da 6 Su una Scacchiera da 6 Vabbè Avrò Evidentemente Delle soluzioni Che contengono Liste di 6 numeri In questo caso Ho 4 soluzioni possibili E la mia Da Una scacchiera standard Da 8 Avrò Vabbè Un certo numero Di soluzioni in più Possibili Ciascuno delle quali Se provassimo A visualizzarla Sarebbe Corretta Avrebbe Le regine Posizionate In modo corretto Ok Quindi funziona Il nostro codice Qua Che è fatto da Ne abbiamo parlato Due ore quasi Ma alla fine Questo è uno schema Di ricorsione Semplici Standard Diciamo così Aggiungo un elemento Lo provo E lo tolgo L'intelligenza Dove sta Sta alla fine Qua Dentro L'intelligenza Diciamo così La conoscenza Del problema Sta in questa posizione Valida E nel fatto Che si è stati bravi A codificare La soluzione Come semplicemente Una lista Di numeri Giovanni Ci suggerisce Una variante Di questo Dice Ma perché Ti devi andare A incasinare E andare A togliere L'elemento Che hai appena Aggiunto Basterebbe Che tu facessi In questa Chiamata Della riga 42 Ricorsiva Non gli passi Parziale Ma gli passi Una sua copia Certo Si potrebbe fare Basterebbe Che io facessi Ad esempio Lista Di interi Parziale Nuovo Uguale New Array List Di Parziale E poi A questo Parziale Nuovo Solo questo Quello Nuovo Li aggiungo La colonna E passerò A questo punto Farò cerca Di Parziale Nuovo Ok Io posso Fare questo Facciamo così Mettiamo le triplette Separate Posso fare queste tre Istruzioni E il Il programma Funziona di nuovo Sempre nello stesso Modo Non ho bisogno Di fare il backtracking Il remove In fondo Perché la Variabile parziale Non l'ho toccata Non ho aggiunto Un elemento Ne ho fatto una copia Attenzione Una copia Con new Se io scrivessi Parziale nuovo Uguale Uguale Parziale Non avrei fatto Nessuna copia Avrei avuto Semplicemente Un alias Un altro nome Un altro riferimento Alla stessa Variabile Ok E quindi Non sarebbe servito Nulla Ma devo creare Un nuovo oggetto E questo nuovo oggetto Modifico Questo nuovo oggetto Lo uso Nella ricerca E all'iterazione successiva Creerò un altro nuovo oggetto E così via Allora Il risultato è sempre lo stesso Nel senso che Proviamolo Ma se non ci crediamo Funziona E dovrebbe funzionare Esattamente Nello stesso modo Infatti sulla matrice da 8 Ce l'ha fatta Tranquillamente Identicamente a prima Semplicemente Cosa succede? Che è meno efficiente Perché io A ogni livello Della ricorsione Ad ogni livello Della ricorsione E ad ogni tentativo All'interno di questo livello Devo creare Copiare Un'arraylist In un altro E questo Chiaramente È più lento Copiare un'arraylist Che può avere Magari 10 elementi 100 50 In un altro Arraylist E per poi Aggiungerne uno È meno efficiente Rispetto Aggiungerne uno E chirurgicamente Rimuovere lui Ok? Quindi Per ragioni Di Semplicemente Di efficienza Si cerca Di Evitare Di ricopiare I dati Troppe volte E allora Se io riesco A avere una struttura dati Che magari In questo caso È un array Di 8 interi Ma se fosse Una struttura dati Più complicata Il metodo Più tranquillo È La copio Ogni volta Ma se è molto Grande Il copiarla Porta via Tempo E visto che Siamo in un albero Ricorsivo Dove le chiamate Ricorsive Sono tantissime Questo tempo Qua si moltiplica Per fattori Dell'ordine Dei milioni Di volte Per cui Ogni piccolo Guadagno Vale la pena Questo è il motivo Per cui spesso Normalmente Si cerca Noi non avevamo Questo problema La volta scorsa Abbiamo fatto Gli anagrammi Gli anagrammi Lavorano Su una struttura Da dati Che è una stringa Le stringhe Per definizione Sono immutabili In java E quindi Di fatto Facevamo la prima In automatico Perché le stringhe Non le potevo Comunque modificare Ok Mentre invece qua Avendo una lista La lista È una struttura Da dati mutabile La posso modificare Allora ne approfitto Per essere un pochino Più efficiente Ok Come facciamo Adesso A prendere Questa Vorrei fare due varianti Adesso Non è ancora completa Però vorrei aggiornare In due varianti Possibili Una è Come faccio Una volta che ho scoperto Una soluzione Non a stamparla Qui Ok Ma a restituirla Al chiamante Cioè Questo chiamante Poverino Deve sapere Qual è la soluzione Per poter ritornare Al suo chiamante Principale Beh Allora Questo È facile Relativamente Basta che io Mi crei Una nuova variabile Nella classe Una private list Integer Che sia soluzione Ok E quindi E quindi Dentro Qua dentro Oltre A stampare La soluzione Potrei fare Soluzione Uguale Parziale Così in questo caso Mettiamo Mettiamo un disco Ci ricordiamo Che è la variabile Di Distanza Quindi in questo caso Posso ritornare Un disk Punto Soluzione Al mio chiamante Ok Questo è il modo Facile Togliamo Questo print Vediamo cosa succede Se io faccio Uno del test Regine Quindi che cosa Ho fatto Nel caso Terminale Io so che Questa soluzione Parziale È una soluzione Valida Ok Me la salvo In questa variabile Soluzione Che è una variabile Che ho definito A livello di classe E quindi vado Aggiornare La soluzione In modo Da farla puntare A questa soluzione Parziale Dopodiché Alla fine Della ricorsione La procedura Risolvi Potrà restituire Al chiamante La soluzione Che dentro La chiamante Ricorsiva Avevo salvato Ok Proviamo a vedere Se funziona E mi ha stampato Questo Ma non è che Non abbia trovato Le soluzioni Le ha trovate Rimettiamo Questo print line Magari mettiamo Solamente 6 Anziché 8 Per non avere Troppi dati Nella console Cioè lui Le soluzioni Le trova E poi Dis.soluzione Finale Invece Il valore Ritornato È una Lista Vuota Cosa sta Succedendo Qualcuno Riesce Vederlo Cioè io Sto stampando Una roba Qua La riga 35 La sto Stampando La vedo La Poi me la Salvo In questa Soluzione E quando Ritorno La soluzione Nel chiamante Stampo Questa soluzione Mi viene Questo Perché Giustamente Se agganciamo Al problema Che già avevamo Citato prima Che Mario Ci ricorda È che Tu Non hai Noi non abbiamo Salvato La soluzione Ci siamo Fatti Un riferimento A questa Variabile Parziale Che stiamo Continuando A modificare Aggiungendo E togliendo E quindi Di sicuro Quando io Esco Dalla funzione Cerca L'abbiamo detto Anche prima Parziale È vuota È di nuovo Vuota Ecco Però Soluzione Altro non è Che un riferimento A parziale E quindi Esattamente Punta Sempre a parziale Quindi Se io voglio Salvarmi il valore Dovrò fare Una copia Allora Posso fare Una copia In modo Da restituire Da salvare In questa soluzione Effettivamente Una lista Indipendente Separata Quindi io Da quel momento in avanti Posso continuare Andare avanti A paccioccare Su parziale Aggiungere Togliere Mettere Quello che voglio Ma tanto La soluzione Me la sono salvata Facendo una copia Separata Allora così Dovrebbe funzionare Meglio Nel senso Che mi trovo Le varie soluzioni E poi questa ultima riga È quella che viene Restituita Tra l'altro Ok Quindi Facciamo sempre Attenzione Quando siamo Nel profondo Della ricorsione Vogliamo salvarci Qualche cosa Ricordiamoci Che se salviamo Un riferimento Alla soluzione parziale Questa qui Verrà smontata Quando esco E alla fine Della ricorsione Non avrò più nulla In mano Perché Non ho fatto Una fotografia Di quanto Devo fare Una fotografia Di quanto Vale quella struttura Dati In quel momento Quindi devo fare Un clone Una coppia Vera e propria Nel caso Terminale L'altra cosa Che Adesso a questo punto La cosa che non mi piace Tanto è che Lui ha calcolato Tutte e quattro Soluzioni Quindi Le ha provato Tutte E me ne restituisce Una sola Allora Va bene Tanto Io ne avevo chiesto A me ne basta Una sola Però perché Far telecalcolare Tutte Quando in realtà Me ne basta Una sola E di fatto Ovviamente Lui Mi restituisce L'ultima Perché lui Avrà messo Dentro la soluzione La prima Nel momento in cui L'ha trovata Poi quando ha trovato La seconda Sovrascrive La soluzione Con la seconda Che ha trovato Poi la sovrascrive Con una copia Della terza Che ha trovato E così via Quindi alla fine Io mi becco L'ultima Che per sé Va bene Però nel frattempo Lui se le ha calcolate Tutte Allora Quando mi serve Una sola soluzione Quando mi serve Una sola soluzione Vorrei Poter uscire Dalla ricorsione Interrompere La ricorsione Nel momento In cui ho trovato La soluzione stessa Ma È che Non è così facile Perché Io provo A mettere Un breakpoint Qua E vediamo Cosa succede In debug Quando io Arrivo In questo punto In debug Ok Ho la soluzione Che mi serve Che è la prima Che ho trovato E sono dentro La funzione Cerca Chiamata da 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 risolvi Allora A me farebbe piacere A questo punto Uscire da questo inferno E andare direttamente Su risolvi Dicendo Senti Io ti ho dato la soluzione totale Restituisci la chiamante E come faccio Per uscire Non basta far return Qua Se faccio return Ritorno a quella prima Ma io devo fare return Nove volte Devo dire a tutti Sentite ragazzi La festa è finita Uscite tutti Ok Quindi devo avere Un minimo di protocollo Sulla funzione Cerca Che dica Alla Funzione Corsiva stessa Non hai più bisogno Di andare avanti Perché ormai Una soluzione L'ho trovata Come si può fare? Vabbè Non è poi così difficile Basta Far sì che la funzione cerca Ad esempio Ritorni un valore booleano Vero o falso Che dice Dobbiamo ancora andare avanti Oppure no Oppure diciamo così L'ho trovata Oppure no Quindi il boolean Cerca Uguale true Vuol dire trovato Uguale false Vuol dire Cerca ancora Cerca ancora Perché non l'ho trovato Continua la ricerca Allora Se sono in un caso terminale E ho salvato la soluzione Posso ritornare True L'ho trovato In tutti gli altri casi Quindi dopo questo ciclo E dopo Al dentro questo else Quindi qua Ritorno False E fin qua Va bene Se io avessi una sola chiamata ricorsiva Poi però Quando chiamo la procedura Cerca qua sotto Vado a controllare Senti Cerca Se tu hai trovato qualcosa Io smetto di cercare Quindi Posso avere Esaminare il valore Di ritorno E quindi se Trovato È uguale true A mia volta Ritorno true Quindi Cosa stiamo facendo Noi stiamo scendendo Nella ricorsione Normalmente Normalmente La procedura Cerca Ritornerà falso Cioè quando io faccio Il procedura ricorsiva Normale Esce con falso E quindi Questo qui Sarà sempre falso Non viene mai eseguito Quindi Stiamo nel caso Esattamente di prima Se però trovo A un certo punto In un caso terminale Quindi trovo una soluzione E me la salvo Restituisco un vero A livello 8 Sono a livello 8 Di ricorsione Quando ho restituito Questo vero Il mio chiamante Quindi livello 7 Della ricorsione Vedrà Che c'è un vero E quindi A sua volta Ritornerà vero Anziché ritornare falso Come fa normalmente E quindi Tornerà A livello 6 Di ricorsione Che si trova Un trovato uguale vero E a sua volta Ritorna vero E quindi sale A livello 5 E così via Cioè istantaneamente Ogni procedura Ritorna Perché dice Ok non devo più andare avanti Perché quella sotto di me Ha detto smettila Quindi c'è un po' di collaborazione Tra queste varie chiamate ricorsive Che si propagano Questo flag Dal basso verso l'alto E semplicemente La procedura Evita di fare Altre chiamate Se sa che non servono Quindi in questo caso Se io eseguissi Questo codice La soluzione è questa Viene stampata Beh questa prima volta È dentro Il caso terminale Quella print line La prima volta Che l'ho trovata Esce direttamente Questa è la soluzione completa Cioè Ritornata al chiamante Come vediamo Non calcola Le altre soluzioni successive Perché non ci servono Abbiamo deciso Che ce ne basta una E quindi la prima Che trovo va bene Ok? Quindi Io ritorno vero In due casi O Ho in mano La soluzione E quindi Ritorno vero Per dire L'ho trovato Oppure La mia Una delle chiamate Ricorsive Che ho fatto Mi dice Che lei Ha in mano La soluzione E allora Dico Vabbè Anch'io Mi fido Ed esco Se non capita Nessuna di queste due cose E quindi Io non ho trovato La soluzione E nessuna delle chiamate Ricorsive Che ho fatto Mi dice Di aver trovato La soluzione Allora Dovro dire E così rispondo Anche Lorenzo Dovro dire Non ho trovato Nenche la soluzione Continuiamo a cercare Perché i tentativi Che ho fatto Non hanno portato A nulla Ovviamente Nella procedura Bullion Deve ritornare qualcosa O vero O falso Ritorna falso Se In nessun caso Ha trovato un vero Non ha trovato La condizione Per uscire Quindi questo È il caso normale Normalmente È uscire da qua Se poi trovo Una soluzione Quindi Questo return force Avviene tutte le volte In cui ho fatto Tutte le Ho provato Posizionare tutte le regine In una determinata riga E nessuna delle righe successive Mi ha detto Ho risolto il problema E allora Va bene Questo force Fa sì che Il mio chiamante Il ciclo ford Il mio chiamante Continui a fare Le prove Continui a provare A posizionarle A livello successivo Nell'alternativa successiva Ok Allora Questo qui È finito Nel senso che Adesso abbiamo Togliendo questo Printline Ok Abbiamo effettivamente Una procedura Risolvi Che prende un n E restituisce Una lista di interi Che corrisponde Alla prima Soluzione Trovata Ovviamente Se esiste Altrimenti Restituirà Una lista Cosa restituisce Sta roba qua Null Facciamo così Che prima Soluzione Uguale null In modo che Se per caso Non trova nessuna Perché esistono Dei casi Delle dimensioni Della scacchiera Per cui non ci sono Soluzioni Quindi se per caso No Ritornerà Null Oppure Ritornerà La soluzione Che ho trovato Ok Allora Se questo È completo Noi possiamo Provare A usarla Nel controller Che vi avevo Pubblicato Dove Effettivamente Qui vedete Che chiamo Il metodo Risolvi Che abbiamo Appena scritto C'è un po' Di codice Per quello L'ho preferito Farlo Piuttosto che Farlo insieme Che crea Dinamicamente Una matrice Di dimensione N Quindi non ho potuto Fare una grid In fxml Di dimensione Fissa Perché N è variabile E quindi Mi sono dovuto Creare Le label E il grid pane Direttamente Da codice Ma non importa Diciamo così Non è un dettaglio Importante Però sulla procedura Risolvi Che abbiamo appena Fatto Possiamo farla Funzionare Con Questa Questo controller Vedete che Se metto 6 Quei numeri Che abbiamo visto Prima stampati Sullo schermo In realtà Si traducono Nella posizione Di queste regine Adesso purtroppo È un po' Piccolo Se metto 8 Me ne posiziona qua Se metto 7 Me ne posiziona qua È quasi istantanea La soluzione 5 4 Poi in realtà Sulle versioni più piccole Tra le due Non ci sono soluzioni E quindi mi lascia La scacchiera vuota Perché non esiste Nessuna soluzione Nei problemi Di dimensione 2 E 3 Però nei problemi Più grandi Trova la soluzione Io adesso qua Ho messo un limite 8 A questo spinner In realtà Non c'è nessun motivo Perché debba essere Solo 8 Mettiamoli anche Che ne so 20 Vediamo cosa succede Adesso non so Non ho provato Prima Quindi magari La grafica diventa brutta Allora Mettiamogli 10 20 Fate la mano Se avete voglia Però In tempo Ragionevole In grado di risolvermi La prima soluzione Vedete che Quasi sempre La prima regina In alto sinistra Nella prima riga La mette Nella casella In alto sinistra Perché è il primo Tentativo che fa E poi Chi fa questo tentativo E riesce a trovare Una soluzione Non ha nessun motivo Per provare il secondo Il terzo Il quarto tentativo Perché noi La prima soluzione Che abbiamo trovato Usciamo E' un caso Può darsi Che in alcuni casi Mettere la prima regina Nella riga zero Non porti nessuna soluzione E qui Ne sto cercando Ma probabilmente Non ci sono In questo caso E quindi Dovrà poi Trovare una seconda Però lui Tende a provare Per prima Le soluzioni In cui le regine Sono addossate Sulla sinistra Della scacchiera Semplicemente Per come abbiamo fatto Il ciclo for Ecco Non c'è nessun motivo Più profondo Alessandro mi sta dicendo Con sei E stampato di nuovo L'ultimo tentativo Perché il primo Metteva la regina In uno Allora Andiamo a verificare Con sei Con sei Questa cosa qui E Sarebbe Zero Uno Due Tre Tre Zero Fatemi provare Dalla linea di comando Test regine Uno Tre Cinque Zero Due Quattro Questa è La stessa array Che viene Che viene Visualizzato Uno Tre Cinque Zero Due Quattro E che cosa Ho visualizzato Qua Ah È un errore Della grafica Perché Dovete leggere Da destra Verso Sinistra Vedete Uno Tre Cinque Zero Ho scambiato Righe Con colonne Probabilmente Ho scambiato Le righe Con le colonne Nel codice Del controller Proviamo a far Così Ok Uno Tre Cinque Zero Due Quattro È semplicemente Ho fatto Casino Io Con gli indici Di righe Indici Di colonne Nel Nel Mappare Sulla Scacchiera La posizione Del regine Ovviamente Essendo un problema Simmetrico Era comunque Una soluzione Valida Per quello Non ce ne eravamo Accorti Prima Ma per fortuna Adesso Molti occhi Attenti Che controllano E quindi Gli errori Più piccoli Saltano fuori Ok Questo è un modo Cioè Un tipo di problema Come questo È un problema In cui cerco La soluzione E appena trovo Una prima soluzione Mi fermo Ok Mi fermo E con questo Trucco Di propagare Un flag Verso l'altro Poi ci sono varie Preferenze Chi ritorna Un flag In realtà Potrei anche Fare il ritorno Della soluzione E quindi Se la soluzione Non è null La ritorno Già direttamente Ma Questi sono dettagli Di che cosa Ritorno Semplicemente Devo ricordarmi Che la funzione Ricorsiva Deve Oltre che andare avanti Dirmi Se ha trovato La soluzione Oppure no O me lo dice Con un bulwano O me lo dice Dandomi già Fornendomi già L'oggetto soluzione Diciamo così È indifferente È una scelta mia E in questo caso Ritorna Una sola Un solo Un solo Risultato Ok Quindi questo Lo possiamo salvare Fare un bel commit In cui ci metto Controll Regine Test regine Sì Ok Il resto no Giustamente Soluzione Funzionante Trova la prima Soluzione Valide E lo salviamo Adesso Proviamo a chiederci Una variante A ragionare su una variante E cosa succederebbe Visto che io so Che il mio algoritmo È in grado Di trovarle tutte Le soluzioni Come farei A salvarle tutte A salvarle tutte E visualizzarle tutte Io ho visto prima che le trovavo tutte Perché me le stampava a video Però con questo meccanismo Che ho Che ho aggiunto Me ne restituisce una sola Come potrei fare Per farme restituire Tutte Allora io ho salvato Perché così Faccio Un Faccio un branch diverso In cui magari mettiamo Questa soluzione Modificata Non è tanto il problema Di visualizzare Le scacchiere Le controlle Che quello sarà Un gran casino A livello di codice Ok Ma Mi pongo Prima il problema Di questa procedura Risolvi Che cosa restituirà Dovrà restituire Dovrà restituire Non solamente Una lista di interi Ma come sta dicendo Una lista di liste Di interi Quindi Per restituire Tutte Le Quindi facciamo Qua un branch Così non mescoliamo Le due soluzioni Switch to new branch Soluzione Calcola tutte O Si calcola Tutte Così lavoriamo In un caso Separato Dobbiamo un po' Modificare Chiaramente Quelle che sono Le nostre strutture Dati Quindi la soluzione Non sarà una soluzione Ma chiamiamola Soluzioni E così cambio il nome La variabile E sono sicuro Di ricordarmi Di modificarla ovunque Che sarà una lista Di soluzione Semplice La soluzione Semplice È una list Di integer Se non Vogliamo impazzire Con queste liste Di liste Potremo Chiarare una classe Che contenga Semplicemente Questa list Di integer Così abbiamo Una liste Di nome Della classe Ma è uguale Tanto in questo caso Facciamo due modifiche Chirurgiche E qui Anche ovviamente La funzione Risolvi Restituirà una lista Di liste Di interi Questa lista Di liste Di interi Che sono le soluzioni La devo inizializzare Che è una new Array list Questa lista Esterna La soluzioni Contiene a sua volta Delle liste Ok Soluzioni Allora La soluzione Non è una Ma ha un contenitore Che permette Di memorizzarne tante Questo contenitore Parte vuoto E la procedura Ricorsiva Dovrà Riempirlo E quindi Andiamo a modificare Il caso terminale Togliamo questi Return True Eccetera Che erano Quelli che ci servivano Per Per uscire Prima Quindi torniamo pure A una funzione Void E a questo punto Nel caso terminale La soluzione Che abbiamo trovato Quindi la copia Ricordiamoci sempre La copia La aggiungiamo Semplicemente All'elenco Delle soluzioni Così Quindi abbiamo Modificato Quattro righe La cosa Essenziale È questa Nel caso terminale Quando abbiamo La soluzione In mano La aggiungiamo Questa soluzione A una collection Più ampia Che si ricorda Tutte le varie soluzioni Ricordiamoci Di aggiungere Una copia Di parziale Altrimenti Arriveremo Alla fine Con tante Liste vuote Perché la lista Parziale Sappiamo già Che alla fine Sarà una lista vuota E se noi aggiungiamo Semplicemente Il riferimento Parziale Avremo tante liste vuote Invece dobbiamo Aggiungere una copia Una fotografia Istantanea Di il valore Che aveva parziale In quel punto Lì del codice Il resto non cambia Questa È cambiato solamente Il fatto che Soluzioni A sua volta Una lista Di liste L'abbiamo inizializzato Come Una lista Di liste Vuota Che non contiene Nessuna lista In modo che Da poter fare Questo add Quindi devo Ovviamente Inizializzare Il contenitore A cui aggiungo Le soluzioni E poi Cambio un po' L'interfaccia Dovrò cambiare Anche ovviamente Il programma Di test Perché a questo punto Non ho più La soluzione Ma le soluzioni Quindi Lista Di liste Soluzioni Chiamo La procedura Risolvi E poi Posso stampare Tutte le soluzioni R Punto Risolvi Cos'ha che non gli piace Risolvi R Regine Non salvato Aspettate Non ho salvato Regine Per cui non si è accorto Che era cambiato Il metodo Ok E quindi Sì Perché tanto Qui mi stamperà In questo caso Tutte le soluzioni Nel caso di 6 Quindi vedete Che è una lista Di liste Una lista esterna Che contiene Dele liste interne Queste liste interne A loro volta Sono le varie Soluzioni Trovate Quindi Questo è un po' Un metodo Generale Quando noi Abbiamo un problema Da risolvere Doviamo sempre Chiederci Mi basta Una soluzione E allora Uso il metodo Che abbiamo usato prima Appena la trovo Cerco di uscire Più in fretta possibile Dalla ricorsione Oppure Mi servono Tutte le soluzioni E allora Vorrà dire Che dovrò Restituire Una collection Una lista O qualcos'altro Delle soluzioni Trovate E ogni volta Che trovo Una soluzione La aggiungo A questa collection E poi proseguo Proseguo Con la ricorsione Proseguire Non è che sia Difficile Perché è Il comportamento Normale Della ricorsione Cioè è più difficile Interromperci prima Che non Che non Che non Proseguire Però devo ricordarmi Ovviamente Di salvare Da qualche parte Una fotocopia Di questa Di questa Di questa Struttura Dati Ok Quindi queste Sono le due Varianti Che ci sono sempre Quando dobbiamo Trovare delle soluzioni Chiediamoci sempre Ma il problema Vuole Una soluzione O le vuole tutte E a questo punto Usiamo queste due Tattiche Tecniche Che abbiamo visto Nel nostro esempio Adesso faccio Anche commit Di questa Di questa Versione Così Abbiamo entrambe Commit Quindi abbiamo Modificato Regine Test regine Semplicemente Non abbiamo Modificato la parte Col controller Perché lì sarebbe Un casinato Perché dovrei Metterci due Freccioline Per dire avanti Indietro Sulle varie Scacchiere Oppure mostrare Contemporaneamente Più scacchiere Questo richiederebbe Molto più tempo Che non fare La procedura ricorsiva La parte Di interfaccia Magari più semplice Da fare Ma richiede Molto più tempo Che non Queste poche Poche righe di codice Come vedete Alla fine Le righe di codice Che abbiamo scritto Saranno 15 Ci siamo stati due ore Un po' la volta scorsa Un po' oggi Perché non sono banali Però alla fine È molto denso La cosa Ogni riga Su ogni riga Ci abbiamo ragionato Ma alla fine Questi ragionamenti Un pochino Li ricicliamo Allora Fatemi fare Commit Se non mi dimentico Versione Che calcola E restituisce Tutte Le soluzioni Ok Allora Ci stiamo avvicinando All'intervallo Io lo so raccontare In un esperimento Che ho fatto Ieri sera Fatemi tornare Sul branch Soluzione Soluzione L'esperimento Che ho fatto Ieri pomeriggio In realtà È quello Di lanciare Il programma Di test Con valori Crescenti Della dimensione Della matrice Quindi ho fatto E mi sono salvato Il valore Il tempo In millisecondi Di questa esecuzione Quindi un programma Di test Che era essenzialmente Questo Cioè ho chiamato La funzione risolvi Con dimensioni variabili Da 4 Poi ho messo Un massimo Di 50 E ho calcolato La differenza Start e stop Del tempo Che ci hanno messo E mi sono salvato I risultati Adesso se ne vogliamo Possiamo anche farlo partire Questo programma E si vede Che ovviamente Le prime Le prime Dimensioni Sono rapide Sono istantanee Quindi mette 0 millisecondi È chiaro Che man mano Che cresce La dimensione Della scacchiera Il tempo Di esecuzione Cresce anche Quindi Il 29 La scacchiera 29x29 Ci ha messo Un secondo La scacchiera 28x28 Ci ha messo Due secondi E rotti La tastiera 30x30 La sta ancora calcolando E quindi Non sappiamo Quanto tempo Ci metterà Io per non stare Delle ore Insieme a voi In attesa Di risultati Ho fatto Stop il programma Ho fatto l'esperimento E ho visto Ieri La dimensione La scacchiera 30x30 Ci ha messo 37 secondi Al 31 Ci ha messo 9 Al 32 Ci ha messo 63 secondi 110 secondi 1839 secondi 1800 secondi Sono tre ore Una cosa del genere 192 secondi 2000 Eccetera Eccetera Provo a mettere Questo in un grafico Viene fuori Una cosa così Ho provato A mettere In Excel Semplicemente Questi numeri Che vi ho appena Fatti vedere E sembra Quali Che il tempo Di esecuzione Sia Praticamente Zero Poi a un certo punto Esplode Con un comportamento Un po' Bizzarro Tutto sommato Non si capisce Tanto Che razza Di andamento Abbia questa cosa Finché Non decidiamo Di mettere L'asse y In scala logaritmica Se metto L'asse y In scala logaritmica Il grafico Cambia faccia Totalmente E si vede Che di fatto C'è una crescita Abbastanza regolare Quindi al crescere Della dimensione Della scacchiera Cresce Questa Se questo È un andamento Semilineare Cioè simile A un andamento Lineare Crescente Chiaramente Con dei balzi Avanti e indietro Vuol dire Che L'andamento La funzione Sottostante È una funzione Di tipo esponenziale Cioè è una retta In scala logaritmica Quindi è un esponenziale In scala normale Ok Questo ci Insegna un po' Di cose Che approfondiremo Meglio Nell'ora successiva Ci insegna Uno A non sottovalutare Gli esponenziali Nel senso che Questi due pallini Qua Questi tre pallini Sono Diverse ore Di elaborazione Questo invece Sono diversi minuti Di elaborazione Quindi per poco Che Poco che ci voglia Cambiamo praticamente L'ordine di grandezza Del tempo Di esecuzione Necessario Se io Dovessi estrapolare Questo Ho scritto Facciamo così 45 40 45 50 Dovessi estrapolarlo Andrei a finire Più o meno Sul 50 A questa altezza Qui E altezza Sarebbe Probabilmente Dell'ordine Adesso Minisecondi Qui c'è la barriera Di un secondo Qui c'è la barriera Dei mille secondi Quindi un milione Di millisecondi Quindi è un'ora Essenzialmente Quindi questa barriera Qua sono le ore In certo senso Questo livello E se io E se io vado Ancora avanti Dalle ore Passo i giorni Dei giorni Passo gli anni Quindi l'esponenziale Cresce abbastanza Molto rapidamente In modo irregolare Per carità Sembrerebbe quasi Che i problemi Di dimensioni pari Siano più difficili I problemi di dimensioni dispari Vedete questo Alto basso Alto basso Alto basso Quasi sempre La dimensione 22 È più difficile Sia della 21 Ovviamente Ma anche della 23 Quindi sembra Che le scacchiere Di lato dispari Siano più facili Da risolvere Boh Magari è una caratteristica Del problema Magari la possiamo usare Per sfruttare Però A me preoccupano Queste dimensioni qua Dove so che Appunto Per avere questi due Data point L'ho dovuto far girare Il programma Per tutta la notte Se mi servisse un risultato Entro domani Per la dimensione 40 Io non so Non sono in grado Di promettervi Se ci sarà o no Per la dimensione 45 Magari ci rivediamo A fine anno Ecco Forse A dicembre Ammesso che il computer Nel frattempo Non manchi mai la corrente E che il computer Continui a lavorare Quindi questa è La prima osservazione Problemi che sembrano Istantanei Da risolvere Quando un attimo Aumenta la dimensione Cominciano a diventare Improvvisamente Ingestibili Dove L'improvvisamente Lo vedo qui Cioè Sembra quasi Da questo grafico Che Il problema Sia banale E poi A un certo punto Esplode A un certo punto Scoppia E' un po' questo Scusatemi Il parallelo Con quello che sta succedendo Sull'epidemia Ah va tutto bene Ci sono pochi casi Ci sono pochi casi Poi da un momento all'altro Oh guarda Ci sono migliaia di casi Sono saltati fuori dal nulla No non sono saltati fuori dal nulla E' che l'esponenziale è un bastardo E scusate il termine E lui lavora sotto Qua Sta già lavorando l'esponenziale Noi siamo abituati All'esponenziale Che esplode No Sui valori alti E' vero Ma lui Invece Anche Schiaccia I valori bassi Un andamento esponenziale Fa sì che i valori bassi Vengano tutti Avvicinati allo zero Ma in realtà Lui dentro Sta lavorando Vedete che questo Il trend crescente In scala lineare Sembra che sia partito Dall'intorno A discostarsi Ma in modo impercettibile In realtà Non sono piccole differenze Sono Un trend Che sta già Covando In un certo senso L'esplosione esponenziale Solo che non ce ne accorgiamo Ma dal momento in cui E' così basso Che non ce ne accorgiamo Al momento in cui E' così alto Che diventa ingestibile E' un attimo L'intervallo Di In cui passa Da Istantaneo A Non ci voglio neanche provare Perché è troppo lento Vedete che è un intervallo Di Non so Da qui Da 35 A 36 Cioè 37 38 Cioè in due Tre dimensioni Fino a 35 Non avevo Quasi problemi Sì sì C'era il 34 Che ci ha messo Quanti sono 1800 Mezz'ora No Vabbè Posso aspettare Però da questo Che è mezz'ora A questo che sono Tutta la notte E Sono dovuto Crescere solamente Di due dimensioni Poi ovviamente Questa è la versione Che si ferma Alla prima soluzione Quindi questo è Il problema Che cercheremo Di studiare Nell'ora successiva Cioè come facciamo A capire Qual è l'andamento Di questi algoritmi Quando la Dimensione Del problema Cresce Qual è la complessità Della soluzione E l'altra cosa Appunto In questa complessità Devo andarla a cercare Perché a volte Non emerge Allora sembra che tutto Funzioni Sul problema semplice Quando lo applico Sul problema vero Che devo risolvere Mi accorgo che invece È totalmente ingestibile Perché? Perché devo capire Dov'è quella curva In cui comincia Questa è un'esponenziale Qui sembra Una cosa lineare Ma noi vedendola In scala reale Sembra un muro Sembra un angolo Fino adesso è piatta E poi è verticale Ok? In realtà non è così È un esponenziale L'andamento esponenziale Che però Ha questo Comportamento Empirico Diciamo così Dal punto di vista L'utente Allora Fino a qui funziona Da qui in poi Sembra che non funzioni più Ci sono degli errori Ci sono dei crash No Semplicemente È la complessità Che ti sta arrivando A dare una mazzata Sulla schiena Allora io Farei a questo punto Una solita pausa E invece Nell'ora successiva Proviamo a riprendere in mano Questo Questo ragionamento Per vederlo Dal punto di vista quantitativo Come si può applicare Ad altri problemi In generale Alla complessità degli algoritmi E in particolare Agli algoritmi ricorsivi Così ci diamo anche qualche base Un pochino più Teorica Quantitativa Per riuscire a ragionare Su dove sta la complessità L'altra cosa Che vi Che vi metto Vi chiedo A modo di quiz Secondo voi Di tutto questo codice Che abbiamo scritto oggi Qual è L'istruzione Che rallenta di più Qual è secondo voi L'istruzione In cui il programma Spende più tempo E quindi quella Magari su cui dovremmo Cercare di agire Per rendere più efficiente Più rapido il programma Il chiedo vuol dire Che non avrà un esponenziale Ce l'avrà Ma leggermente più dolce Quindi magari Mi permette di andare avanti Di una casella o due Quindi mentre vi prendete un caffè Nel prossimo quarto d'ora Provate a pensare E a dirmi Qual è secondo voi La riga di codice Da cui partire Per ottimizzare Questo programma Ok Vi lascio Ci rivediamo Magari a 10.20 Parlando un po' di complessità E ragionando un po' Sui tempi di esecuzione E ragionando un po' di complessità E ragionando un po' di complessità